Ciao ragazzi, sono Feder, ecco qua con me, Lucia, siamo qui nel studio di Rete B e c'è anche Fabio Eccolo Siamo qui negli studi C'è anche Andrea All'inizio non ti avevo mica riconosciuto Infatti ho guardato dopo C'è anche Andrea e stiamo per iniziare la diretta Quindi canale 72 del digitale 819 di Sky Come sempre, fra pochi minuti iniziamo Si, si comincia Vi aspettiamo, siamo in streaming su YouStream Ciao ragazzi, ciao a tutti Ciao, ciao, ciao dopo